0 Il Verona poi tornerà a giocare in casa nel turno prossimo contro il Cesena La Ternana giocherà a Reggio Calabria Giorginio Palla verso Martigno, Martigno recupera ancora Palla dentro per Caccia, Caccia in area di rigore Messo giù, caccio di rigore Questa volta c'è il calcio di rigore, c'è il rosso per Fazio Svolta della partita al ventunesimo minuto Ne vanno a parlare con l'assistente giocatore della Ternana Ma il Rati ha preso la sua decisione Rigore ed espulsione Ci esponiamo prima perché ovviamente poi da questa distanza non è facile Per me è rigore questo Giorginio è dato una bellissima palla Voleva tirare immediatamente Caccia Però aveva proprio il piede di Fazio che opponeva resistenza Poi allora se l'è portata un po' verso l'esterno E nel momento in cui stava per calciare Secondo me Fazio, eccolo qui, Giorginio che si impossessa della palla Prima non riesce a tirare E poi comunque c'è a mio avviso Anche se è plateale la caduta di Caccia Grazie a tutti